Buonasera da Gabriele Giustiniani e Marta Carissimi e benvenuti a Ginevra, Svizzera. È la prima giornata della Women's Champions League e sono le migliori 16 squadre dell'Europa. Siamo ai gironi e per la prima volta la Juve c'è. Juve che recupera il pallone, mette al centro questa scopa di aviazione, la palla passa e Urtega non riesce ad avventarsi. Di nuovo Buonasera, parte Urtega, centralmente si è liberato a Zamagnano che può anche andare per la porta, fuori. Palla recuperata, Lundorf accarezza anche la possibilità di una conclusione, si defila, poi va in porta. C'è stata la deviazione da parte di Ines Pereira, qui occhio a Caruso, gran look per questa scopa, contatto, fischio dell'arbitro e calcio di rigore. La rincorsa, Staschkova in Es Pereira, respinge. Lundorf affonda a destra, quasi come se ci avessi sentito. Poi si addormenta e servete, Lundorf torna sul pallone e lo va a indirizzare verso la porta. In verticale, gran pallone per Caruso! Grazie azione della Juve! Caruso spacca l'equilibrio al 35esimo, gli inserimenti fanno la differenza. Variazione da parte delle servette che ovviamente non stanno a guardare, ma non lo fa neanche Magnan. Palla passa, arriva in zona Bonfantini, col tacco, con qualità, finisce giù. Ma c'è Bottin, palla in aria, non c'è nessuno, arriva adesso sul secondo palo Lundorf. Urtig, controllo in area di rigore, la posizione è buona. Urtig in Es Pereira, risponde presente, calcio d'angolo, ha provato a rifarsi subito. Questa scova che si presenta sulla trequarte, gran palla per Urtig, controllo in conclusione! E stavolta non sbaglia, un occhio all'assistente, la posizione è buona. 2-0 per la Juve, stavolta non ha tremato. E adesso carica testa bassa in El Serbettor, questa palla dentro, polo! E non è entrata! Cernoia, zona tiro, prende la mira e va! Eccola qui, CR7, Valentina Cernoia, è 3-0 per la Juve! Intanto per occhio, perché il Serbettor fa confusione e Stascova vuole approfittarne! In Es Pereira si rifà alla grande, gran volo! Stascova dribbla bene, Stascova per la porta! In Es Pereira le fa capire che non è proprio serata. La Juve però non ha finito, va ancora alla conclusione in Es Pereira! Tutti a guardare l'arbitro che dice che basta così, tutti nel tunnel dello Stato di Genève, vince la Juve all'esordio in Champions League, la fase da Gironi lo fa per 3-0, dominando il Serbettor. Grazie! 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 Grazie!